Stefano Brandini, il calcio nel sedere, questa rubrica che è tanto successo, ha riscosso e che va verso un'estate nella quale magari voi credete che verrà soppressa ma no, perché di calcio poi alla fine si parla sempre. Poi calci nel sedere si dà un volentieri sia d'inverno, l'estate fa più male perché uno è meno vestito. Lui è Gobbo e io sono per la Fiorentina, questo non era mai stato chiarito la cosa, però tra noi c'è una simpatia perché noi siamo due sportivi. Sì, ma poi te sei per la Fiorentina, te fondamentalmente sei per la caccia cingiale. Fondamentalmente sì, anche perché se si potesse fare le salsicce con Montolivo io sarei anche per la Fiorentina. Infatti partiamo con il calcio nel sedere, il primo lo prende Montolivo, dopo tutti questi anni io credo dove ha più ricevuto che dato la Fiorentina, perché alla fine questo Montolivo rimane una grande incompiuta, un giocatore che alterna buonissime prestazioni a momenti di grande vuoto, di grande assenza tecnica e anche di presenza carismatica in campo. Insomma, non è che la Fiorentina gli abbia portato lui grandissimi risultati, è vero che non è un giocatore da solo che fa una squadra, però insomma voglio dire, secondo me è un giocatore sopravvalutato. Ora evidentemente c'è qualche sirena di qualche grande squadra e non gli do un calcio nel sedere perché pretende e ha la pretesa direi anche giusta di andare in una grande squadra, che questo tutto sommato è una pretesa che è... Perché c'è già in una grande squadra. Sì, è una grande squadra, diciamo è in una buona squadra di Serie A, ma insomma è chiaro che andare all'Inter o al Milan o al Bayern è un'altra cosa. Gli condanno il come lo sta facendo, insomma questo suo non rinnovo il contratto, questo fare il misterioso, non vorrei che alla fine questo Montolivo faccia la fine della sua ragamilla, insomma, perché io poi nell'esame della grande squadra ce lo voglio vedere. Ora gioca nell'Italia, anche perché l'Italia insomma è un cantiere, perché c'è Prandelli che è un affesionados, però insomma... Che era il suo mister. Che era il suo mister, però insomma i grandi giocatori sono un'altra cosa, almeno per ora. E smettiamo di dire che è giovane, perché credo che ormai abbia 25-26 anni, quindi ne è massimo. Anche io, si dice anche di noi. Che siamo giovani, ma si vede che siamo, guarda che barba bianca. Montolivo, sappi che fino a ora, tuttora sei la bandiera della Fiorentina, ti faremo sapere dove ti si mette l'asta. Attenzione. Quanto prima? E da lì capiremo se ti piace l'asta, perché in base a come ti comporti si capisce. E Mazzarri? E il secondo calcio nel sedere, ma non solo Mazzarri, Mazzarri e De Laurenti, insomma è stata una telenovela che ha fatto un po'. Un film, è stato un film. No, una telenovela, tragicomica, che ha fatto morire da ridere tutti, e alla fine questa soluzione pare quasi un matrimonio forzato. Sapientemente gestita dal direttore sportivo Bigonne, che ha ricuscito, facendo capire. E a De Laurenti, che questo comunque c'è altri due anni di contratto, e alla fine un lo piglia nessuno, perché tanto le squadre di prima fascia hanno scelto altro. Quindi voglio dire, il Milan ha straconfermato ovviamente Allegri, l'Inter ha straconfermato Leonardo, la Juventus, che è di prima fascia solo come blasone, ma non nei risultati, ha preso conte. La Roma con gli americani vuole soluzioni estere, quindi alla fine questo faceva anche questo, anche questo rifaceva la fine della sora Camilla, anche lui. Quindi De Laurenti si doveva sciucciare due anni di contratto, e allora Bigonne ha detto, guarda comunque questo qui ha fatto bene tutto quanto, rimanete. Però credo che alla fine questo matrimonio forzato potrà anche avere ripercussioni negative il prossimo anno. Mazzarri probabilmente doveva anche rendersi conto che ha prodato in una squadra, dopo le primissime fasce, di seconda fascia grande, ha fatto un grande lavoro, è giovane. Quindi probabilmente fare almeno un altro anno a Napoli, sondando la Champions in quella squadra, senza fare tutte queste polemiche, fare il misterioso, sarebbe stato meglio. De Laurenti invece, siccome comunque è uno pieno dei soldi, se aveva le palle, lo mandava a casa uguale e pigliava un altro allenatore. Quindi calcio sul culo tutte e due. L'ultimo calcino sul sedere, se lo prende ormai credo che ci abbia il Paranatic e Balotelli, che ha fatto l'ultima, clamorosa. No, clamorosa, che poi io non ho capito, questo ragazzo, che cosa rifrulla per la testa, insomma, io credo che il massimo a vent'anni, dopo aver vinto, dopo aver essere arrivati terzi in campionato, quindi avere accesso diretto alla Champions League con Manchester City, aver vinto la Coppa d'Inghilterra, che in America, che in Inghilterra è considerata quante più del campionato, perché l'FA Cup è una cosa importantissima, essere stato eletto il miglior giovane, cioè snobbare la festa del Manchester, con tanto di pullman scoperto in giro per la città, scena, tutto quello, per tornare a Milano, andare in una discoteca con l'amici e fare a botti. Non capisco la dietrologia, cioè io credo che a vent'anni, insomma, uno si debba sentire in cima a un pullman scoperto, un dio, con una città intera, importante, poi come Manchester, che ti osanna, non lo so, io non riesco a capire veramente questo, perché poi alla fin fine questo suo carattere, insomma, conferma anche che è un po' un dannato, insomma, che ha sempre la ricerca di un qualcosa che non si sa, probabilmente neanche lui sa cosa vuole, quindi è dispiace perché... È diseducativo nei confronti di tanti ragazzi. È diseducativo e dispiace perché alla fin fine lui spreca facendo così un talento che potrebbe far comodo all'Italia, perché fa parte dell'Italia, a se stesso prima di tutto e anche giovani come modello, quindi... Ci sono persone infelici che magari vorrebbero... Perché guardi me felicissimo? No, nel senso... Guardi, io sono felicissimo, io sono solo infelice, quei sei minuti che venite a rompervi le scatole e basta. Alla prossima. Alla prossima fuori.